VALLONEWEB.TV La web tv che ti riscalda Cosa si può trovare in questo negozio? Di tutto e di più, due parole semplici per dire che chiunque abbia bisogno per i propri animali, attenzione, di qualsiasi genere e razza Quindi parliamo dei roditori, parliamo dei cavalli, parliamo dei cani, dei gatti, di tutti gli animali che possono stare all'interno di un'abitazione familiare Ma i prodotti ce ne sono svariati in base alle proprie esigenze Allora oggi siamo qui per benedire questo negozio di Gaetano Questo negozio che è dedicato agli animali Noi sappiamo bene come la creazione tutta è in armonia con l'uomo Gli animali e l'uomo all'origine nel libro della Genesi erano chiamati a vivere insieme Poi il peccato ha distrutto tutto Sappiamo bene come in questo periodo di crisi è difficile anche intraprendere e aprire un'attività E il nostro essere qui è il pregare il Signore E un invocare una benedizione particolare per questa attività Perché possa essere benedetta e aiutata nei momenti difficili Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo e così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurra in tentazione ma gli aderci dalla madre O Dio creatore e padre che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo Perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza Benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio Fa che osservino sempre la giustizia e la carità E così concorrano al bene di tutti Lieti di operare per la crescita della società Per Cristo nostro Signore Quindi auguriamo a Gaetano e alla sua famiglia Infatti mi è stranizzato anche l'argomento E meno male che non si apre un negozio ripetitivo con gli altri Quindi è un'innovazione unica Io sarò uno dei clienti perché dicevo a lui Perché con gli acquari io mi diverto Quindi mi raccomando fornisci un po' di materiale di acquario E quindi a parte la pubblicità che faremo Il Signore sia con voi E con il vostro Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Maria Regina della Pace Sant'Antonio Abate Prega per noi Un applauso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti